Abbiamo fatto una settimana di buon lavoro con la consapevolezza di avere di fronte una gara importante, una gara difficile, non ci sono partite facili nel nostro campionato ma dopo l'inizio di Caserta abbiamo fatto una settimana di lavoro con il desiderio di dare continuità sia ai risultati che ai motivi di miglioramento. Abbiamo avuto un problemino con Derek Nidam che però dovrebbe essere disponibile avendo avuto uno scontro con Derroy James e al momento abbiamo solo un altro piccolo problema con Stefano Gentile che vedremo di gestire e arrivare alla fine della partita. Però è stata una buona settimana di ottimo lavoro dove ho visto i ragazzi mentalizzati proprio sul continuare a crescere e ad avere anche soddisfazione da questa crescita. Trento e Reggio sono sempre state due società che hanno avuto ottimi rapporti, le ha accomunati questa fratellanza estiva rispetto a quelle che sono state le vicende europee. Due società che però vogliono dare continuità e hanno dato continuità agli staff tecnici e vogliono dare continuità anche dei risultati. Anche Trento ha perso la prima, poi ha fatto 3 su 3, ha fatto un cammino molto simile al nostro, quindi abbiamo tutta la consapevolezza della partita che andremo a incontrare. Naturalmente siamo molto concentrati sui nostri miglioramenti e proprio anche a livello individuale per dare un riscontro ai miglioramenti fatti nelle ultime partite. Grazie a tutti.